Ho solo dei nemici fuori adesso che mi vogliono tutti bene che mi dico devi stare attento, devi stare meglio, devi stare bene come puoi pensare tu di difendermi da me, lascia stare l'amico per il caffè in questa fine discorso Abbiamo bisogno di un ambulatorio, di una chiesa, di un amore, di un pronto soccorso e chi sta male deve vergognarsi e anche chi è grasso e anche a fare dei piaceri sai si può sbagliare magari tu volevi fare di te e hai fatto male in questa fine del mondo